Una striscia di lungomare che il sindaco Seri paragonava, addirittura a Riccione, per giustificare la fame dell'amministrazione comunale a far cassa. Certe scelte però non fanno altro che allontanare i possibili turisti. Ne ha convinto Stefano Polegioni, segretario dell'Udc Fano, che torna a parlare dei parcheggi a pagamento a Lido e alla Sassonia. Dopo le tante polemiche di residenti e commercianti, contrarie alla decisione adottata lo scorso anno, l'Udc aveva avviato una petizione per la quale aveva raccolto 800 firme. A breve però le soste blu scatteranno di nuovo dal 1 giugno al 15 settembre. Abbiamo un aeroporto da valorizzare, ha detto Polegioni, un porto turistico in un mare mosso, una stazione ferroviaria dove non fermano più i treni a lunga percorrenza e strutture alberghiere che non dispongono di parcheggi privati. L'unico mezzo con cui i turisti possono raggiungere Fano è dunque l'auto, ma sappiamo bene, ha aggiunto, che dove non ci sono comodità e alternative, riferito anche alle soste, le persone vanno altrove. Io mi domando, è possibile che un'amministrazione comunale non riesce ad interloquire per cercare di risolvere il problema del parcheggio del Lido, che è fattiscente, pieno di buche, è bianco, come dico, più volte le macchine entrano col colore e escono tutte bianche, quindi è bruttissimo. Tra l'altro c'è un albergo fattiscente che non è una bellissima cartolina per questo luogo. Lei invece ha avuto modo di confrontarsi con i residenti, che cosa chiedono? Sì, i residenti non mi sembra che siano così concordi come l'amministrazione comunale spesso dice. Non ho trovato concordanza per quello che riguarda la scelta della famosa cabina Enel qui all'entrata del Lido, che è molto brutta. Tra l'altro chiedono dei restyling, per esempio dicono che mancano i cestini adatti con la raccolta per le sigarette, ma soprattutto chiedono più rastregliere per le biciclette, perché la zona soprattutto del mare verso l'Arzilla, quindi prima del ponte, l'estate è piena di biciclette accatastate una vicino all'altra e che ostruiscono anche la passeggiata pedonale. Situazioni pericolose di degrado per il segretario dell'Udc non riguardano soltanto la parte nord di Fano. Infatti per Poligioni l'amministrazione dovrebbe prestare più attenzione su tutto il lungomare, Ponte Sasso compreso. Ci sono panchine, per esempio nuove, messe in pavimenti che sono rovinati, che sono fattiscenti e quindi cosa facciamo? Invece di preoccuparci di questo pensiamo al parcheggio a pagamento. Oltre alle criticità però, Poligioni avanza anche proposte, restando convinto che residenti e commercianti non debbano pagare la sosta per andare a casa o al lavoro, suggerisce un abbonamento agevolato per i turisti che parcheggiano sul lungomare. Noi abbiamo un turismo che viene da comuni limitrofi, anche da regioni come per esempio l'Umbria, vengono tutti fine settimana, qualche volta si fermano anche più giorni, quindi pagare una tassa di 30 euro, forse vogliamo fare qualcosa di più, va bene, per loro sarebbe uno stimolo per venire al mare a Fano. Quindi io dico al sindaco che forse bisogna avere il coraggio di perdere qualche spicciolo, perché con delle idee migliori possiamo riportare il turismo a Fano, ma insieme a quello anche un indotto economico che aiuta anche a recuperare quello che può essere perso in un parcheggio a pagamento, perché 10 euro al giorno sono tante.